Berga YouTube è il greco a favore delle studentesse e degli studenti dell'ultimano dell'Icio Classico. Saranno a fine maggio una quarantina i video in tutto pubblicati, dedicati a traduzioni guidate dagli autori, dagli storici, dai filosofi, da Luciano e anche da Plutarco. Questo è il quarto video dedicato alla traduzione da Plutarco. Possiamo incominciare. Passo molto interessante questo che ho ricavato dalla vita plutarchea di Lucullo, in cui si parla dell'istituzione di una biblioteca che era accessibile ai più e questo è molto interessante per l'epoca. Come al solito si parte dai predicati verbali, ma c'è una segnalazione da fare. Il punto fermo alla fine della prima riga mi segnala che questa frase non ha alcun predicato verbale. È possibile, anzi è certo, che sia sottinteso il verbo essere. Il soggetto plausibile è ta periten ton biblion kataskewen, che sarebbero le operazioni relative alla predisposizione, all'ordinamento ton biblion, ton biblion al singolare e libro. Al plurale indica la biblioteca. E allora il senso è le operazioni relative oppure semplicemente l'ordinamento, la costituzione della biblioteca è, quindi devo sottintendere un verbo, posso mettere esti, visto che il soggetto sarebbe questo neutro plurale e il verbo va al singolare. Dunque, la preparazione, l'allestimento della biblioteca è axia spudes cai logu, è degno di menzione, cioè di stima e di considerazione, quindi parte con una frase che cattura tutta la nostra attenzione. Gli altri verbi, nel resto della frase, gegra-mena, interessante, separiamo, questo è il raddoppiamento, qui manca la vocale tematica, mena è la desinenza del participio medio-passivo, questo è un participio perfetto medio-passivo, il verbo di riferimento è grafo e quindi è un neutro plurale che concorda con il pollà precedente. Syn-egen, imperfetto da syn-ago, a condurre insieme, quindi raccogliere, e poi procediamo con aneimenon, questo è un verbo composto, la forma eimai è la forma di chiemi al perfetto medio, il perfetto medio di chiemi, lo segno qui è heica e poi eimai e aneimenon forma un genitivo assoluto insieme a ton bibliosecon e poi abbiamo ancora hipodechomenon, altro participio questa volta presente al genitivo che è sempre riferito dunque a ton bibliosecon, quindi abbiamo un doppio genitivo assoluto e ancora procedo fino alla fine abbiamo un foitontas, participio presente declinato all'accusativo maschile plurale come il successivo syn-gen-re-won-tas e poi ancora sullo stesso livello si pone apotre-contas. Abbiamo dunque tre participi declinati all'accusativo maschile plurale che si riferiscono a tus-elnas, quindi sono tutti i participi congiunti a quello accusativo. Un periodo decisamente lungo ma questo non deve spaventarci perché esercitarci sulle lunghe tratte ci permette di capire come gestire i periodi lunghi. Dunque si parte da caigar e infatti synege raccoglieva, pollà evidentemente sottinteso biblia, molti volumi caighe grammena calos anche ben scritti. Poi c'è un te che quindi coordina e l'uso en filo timottera che è un comparativo tes ctesios è il secondo termine di paragone e l'uso cioè l'impiego evidentemente dei libri era più onorevole, sarebbe ambizioso, degno di onore, tes ctesios dell'acquisto. Il genitivo assoluto, anzi i genitivi assoluti che arrivano dopo evidentemente esplicitano perché l'uso risultava più degno di onore addirittura dell'atto di aver acquistato i libri e quindi questi genitivi assoluti sono da tradursi con delle proposizioni causali. Poiché ton bibliothècon, poiché i depositi di libri, cioè i locali della biblioteca, aneimenon, aniemi vuol dire apro, lascio libero e quindi aneimenon vuol dire che erano aperti, poiché erano aperti a tutti, pasi, i locali della biblioteca. Cai ton peri paton peri autas e i luoghi di passeggio intorno ad essi, intorno ai locali, cai scolasterion e le sale da studio accoglievano, cioè ospitavano, accoglitos vuol dire senza impedimento, tus hellenas. Ecco il pregio della biblioteca, ragioniamo sempre sul senso, dobbiamo soffermarci a verificare il senso di quello che abbiamo compreso. Dunque c'è un'istituzione di una biblioteca in cui sono raccolti libri anche di pregio, ben scritti, e il dato notevole è relativo all'impiego. Qual è la peculiarità della biblioteca aperta da Lucullo? Appunto la sua apertura, la sua accessibilità a tutti, anche ai greci, senza impedimento, quindi erano facilmente accessibili i libri. Adesso ci manca l'ultima parte in cui si dice che tus hellenas, evidente, foitontas, syndiemerewontas e apotreontas. Occupiamoci della prima parte, il cai coordina i due participi, mentre poi invece abbiamo semplicemente la virgola. foitao vale come frequentare, si costruisce di solito con eis e l'accusativo, questo è che eis invece è un avverbio. E allora i greci che la frequentavano osper come un albergo delle muse, e c'è anche ti. Il ti è indefinito, nella forma neutra, possiamo anche renderlo in qualche modo, così, in un certo senso, oppure possiamo eventualmente ometterlo. Allora il senso è che accoglievano i greci che si recavano là o che frequentavano quel luogo, per così dire come un albergo delle muse, e trascorrevano le proprie giornate, questo è il senso di questo participio, insieme, synd, gli uni con gli altri. Apotreontas, treco e correre, apotreco e corro via fugo, fuggendo volentieri, apoton allon creion, creia vuol dire occupazione, quindi significa fuggendo volentieri, tralasciando le altre occupazioni. Te la riformulo prima di chiudere i lavori del giorno, e quindi la predisposizione, l'allestimento della biblioteca è degno di stima e di considerazione, e infatti raccoglieva molti volumi anche ben scritti, e l'uso era più onorevole dell'acquisto, poiché i locali della biblioteca erano aperti a tutti, e i luoghi di passeggio attorno ad essi, e le aule da studio, le sale da studio, accoglievano senza impedimento i greci, che frequentavano quel luogo come un albergo delle muse, e trascorrevano insieme gli uni con gli altri le proprie giornate, allontanandosi volentieri dalle altre occupazioni. Passo interessante, quando si parla di biblioteche l'interesse è sempre alto, se il lavoro ti è perso utile ti chiedo un like, ti chiedo anche di dare più visibilità possibile a questi video per soccorrere molti, e a questo punto ti auguro come al solito in chiusura di video, un buon lavoro.